Buonasera a tutti, bentrovati, adesso uno spazio dedicato alla cultura, chiamiamo cultura perché appunto si parla di scuole, certamente la scuola è il luogo di crescita personale e di formazione di ogni ragazzo, in questo caso parliamo dell'istituto comprensivo Piero Gobetti e innanzitutto prima di insomma entrare nel vivo della discussione ringrazio e saluto i nostri graditi ospiti, questa sera per la prima volta qui presso i nostri studi il nuovo dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Piero Gobetti, dottor Giuseppe Scebba, buonasera, la vicepreside la professoressa Spadaro Grazia, buonasera, benvenuta e il professor Nicastro Salvatore referente per le nuove tecnologie, in questo caso appunto referente per le nuove tecnologie perché l'argomento appunto riguarda le nuove tecnologie che presenta questo istituto, però prima di entrare nel dettaglio perché sabato c'è stato un importante evento in questo istituto, la presentazione di alcune aule 3.0 e appunto mi soffermo su questo, il resto lo direte voi, volevo un poco presentare questo istituto, come è articolato, qual è l'offerta formativa insomma e quali sono appunto i plessi che dipendono da questo istituto, Preside? Sì, intanto io ringrazio l'emittente per averci dato questo spazio televisivo perché tra le altre cose le scuole oggi sono chiamate anche a dare rendicontazione sociale, così viene chiamata, su quello che accade all'interno delle nostre scuole. Abbiamo iniziato un processo di valutazione e di autovalutazione e questa naturalmente deve essere resa pubblica, per cui quello che noi facciamo all'interno delle nostre scuole vogliamo che venga reso pubblico, è chiaro che grazie all'emittente noi abbiamo uno spazio importante per il nostro territorio. L'evento a cui si riferiva è uno dei tanti eventi che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, la scuola è stata interessata da un processo di ristrutturazione perché ha un sistema di geotermia che è stato realizzato con un progetto portato avanti dal comune, importante, importantissimo, ha il fotovoltaico più di 50 kilowatt sui nostri tetti per cui è efficientata energeticamente, quindi grazie a questo anche ha subito una sorta di modifica interna per cui ora noi stiamo riutilizzando gli spazi che sono stati modificati naturalmente mettendoli in linea con quelle che sono le nostre esigenze. Come dicevo prima l'evento a cui si riferiva è l'inaugurazione di quattro aule, nello specifico sono le quattro prime del plesso Gobetti che sono state preparate per la didattica nuova, la didattica 3.0. All'interno dell'aula abbiamo la lavagna multimediale e abbiamo delle attrezzature mobili come pc e pc tablet e una serie di device con cui è possibile che i ragazzi possano interagire e dare un feedback, un ritorno immediato al docente per cui ci siamo attrezzati per modernizzare la nostra scuola. È stato un evento importante anche per un altro motivo perché grazie all'intuizione anche del professore Nicastro si è deciso di per esempio mettere come arredi i banchi che non sono stati comprati nuovi. Abbiamo utilizzato dei banchi vecchi, sono stati riparati, sono stati rimessi a posto anche per dare un segnale su quello che è il riciclo, su quello che è il risparmio energetico. È veramente un'iniziativa lodevole. Voglio dire che i collaboratori, i personale ATA si sono messi a disposizione in prima persona lavorando anche il pomeriggio e durante i giorni festivi. Poi naturalmente le cose tecniche e pratiche le dirà il professore Nicastro che ha organizzato l'evento ma ha pensato anche all'acquisto di una serie di strutture, infrastrutture che si sono sedimentate negli anni e che oggi finalmente ora possiamo cominciare ad utilizzare. La scuola ha anche altri plessi, la scuola ha anche il plesso romana dove c'è dentro una sezione dell'infanzia, ci sono 11 classi della scuola primaria, quest'anno abbiamo acquisito il plesso exonmi dove abbiamo 5 classi di scuola primaria e lì naturalmente l'abbiamo acquisito da settembre per cui abbiamo cominciato a installare una serie di apparecchiature come l'IM e comunque lì abbiamo bisogno di un po' di tempo per portare a regime il funzionamento di queste. Abbiamo anche un plesso di infanzia che è quello del lago Ballone. Sono tutte strutture dove abbiamo iniziato questo processo di modernizzazione e entro l'anno penso che a regime funzioneranno perfettamente. Ecco questo è il nostro augurio. Lei si è insediato a settembre da quest'anno quindi? Sì, sono qui dal primo settembre però sapevo che tipo di scuola andavo a trovare perché so il lavoro che ha fatto il mio predecessore, il professore Turrisi, che è stato veramente eccezionale nel riportare una scuola che veramente era alla deriva e ne ha fatto un'eccellenza. Conveggo perché abbiamo avuto modo di seguire anche lui. Devo dire che è un lavoro facile per me, però sono contento di avere scelto questa istituzione. Il problema è che la barca bisogna continuare a remarla. Assolutamente, ma siamo in linea perché abbiamo una visione simile per quanto riguarda il lavoro, la scuola e quello che deve essere la scuola nel futuro, per fortuna. Professoressa Spadaro, come hanno vissuto i ragazzi questo momento? Cosa hanno percepito da questa tecnologia? Ormai sono al passo che tempi tutti i ragazzi, quindi la parola è facile da sentire. Però nel viverla, nel quotidiano, che tipo di esperienza è? Allora, intanto la nostra scuola è un cantiere. Da anni, da quando, come ha detto il dirigente Scebba, la scuola si è aperta a questo processo di rinnovamento didattico e tecnologico, lo sforzo dello staff e di tutti i docenti dell'infanzia, della primaria e della secondaria è stato quello di fare in modo che la scuola raggiungesse dei livelli più consoni a quelle che sono le nuove istanze della didattica. I nostri alunni, diciamo che loro stessi affermano di stare bene nella nostra scuola, sono testimoni ma nello stesso tempo protagonisti di questo processo di rinnovamento. Così come pure i docenti, come corpo docente, condividiamo a più livelli e con diversi ambiti di competenze quelle che sono le iniziative che deliberiamo di portare avanti. Il piano dell'offerta formativa degli anni precedenti è stato finalizzato, è stato diretto in più direzioni. Da un lato quello di affermare il ruolo centrale della scuola nel territorio. La nostra scuola gravita in una zona, diciamo di periferia, ma è una zona in continua espansione e possiamo con un pizzico di orgoglio poter dire che l'istituto nel corso degli anni ha acquisito una certa credibilità e anche fiducia da parte delle famiglie. Questo ci ha dato tanto coraggio e ce ne continua anche a dare e ci stimola a inseguire nuovi traguardi, ad accettare nuove sfide. Quest'anno abbiamo deliberato diversi progetti, progetti di carattere didattico, prettamente didattico. Ad esempio alla scuola secondaria uno degli obiettivi è stato quello di innalzare i livelli di istruzione delle competenze degli alunni, ad esempio nelle lingue. Sono già iniziati dei corsi per il recupero e il potenziamento dell'inglese e del francese e per la prima volta in quest'anno dello spagnolo. Anche se lo spagnolo lo abbiamo anche negli anni precedenti con un PON, lo abbiamo inserito nel piano dell'offerta formativa. L'altro punto di forza del nostro istituto è l'ambito musicale. Noi attuiamo da anni dei corsi di musica quasi uno ad uno, docente e alunno, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, valendoci del contributo prezioso dei nostri docenti, la professoressa Vitale, il professore Alessandro, la professoressa Gervasio. A proposito della musica, quest'anno abbiamo accolto un progetto del MIUR, cultura musicale nella scuola, un progetto ambizioso e nel momento in cui speriamo ci venga autorizzato, è abbastanza articolato perché potremo attuare una serie di iniziative, quali concerti, avvalendoci anche del contributo di esperti di livello nazionale. Questo è possibile anche grazie alla nuova aula di musica di cui ora ci parlerà il professore Micastro. Tra l'altro credo ci sia anche qualche foto, vediamo se riusciamo a vedere. L'aula di musica che è veramente il fiore all'occhiello. e altri progetti... Quindi musica, mi scusi, non soltanto, cioè di che tipo di strumenti la musica la viene a studiare? Allora, noi abbiamo acquistato strumenti che ci consentono di poter dare esecuzione ad un pezzo orchestrale al completo. Anche se i corsi di musica sono finalizzati soprattutto a quello del pianoforte, della tromba, sì, e questo. Poi altri, ecco, i ragazzi si muovono nella nostra scuola con molta tranquillità, ma anche hanno alto il senso del rispetto dell'ambiente, delle apparecchiature e degli arredi. Anzi, proprio quest'anno, nell'inaugurazione di queste aule abbiamo materialmente affidato loro i banchi, nel senso che ad ogni alunno è stato associato un banco numerato, è stato proprio codificato, loro hanno sottoscritto questa presa di consegna, perché vogliamo far passare questo, che la scuola è di tutti, ma la scuola deve essere tutelata e salvaguardata da ciascuno, dagli alunni, ai docenti, dalle famiglie e quindi anche la tutela dell'oggetto, delle apparecchiature, degli arredi è importante. Tra altri progetti volevo ricordare il laboratorio di ceramica che si è concluso da poco e che ha coinvolto sia i ragazzi, i bambini della primaria che quelli della scuola secondaria. Sono state le nostre insegnanti avvalendosi del contributo di una esperta e poi alla fine abbiamo fatto una mostra. Le competenze sono ad ampio raggio, le competenze chiave sono lingue, matematica, italiano, però vogliamo curare tanti altri aspetti, dalla musica all'arte, come pure l'attività motoria. Per l'attività motoria i nostri plessi usufruiscono di palestre attrezzate, tanto alla scuola primaria e alla romana, dove a breve partirà il nuovo progetto Sport in Classe, il cosiddetto progetto di alfabetizzazione motoria, per cui le docenti della scuola primaria saranno coadiuvate da un tutor nominato da una graduatoria regionale. Poi per la centrale invece, per la sede centrale, abbiamo fatto istanza per una nuova impiantistica sportiva, anche avvalendoci non solo della palestra, ma degli ampi spazi di cui dispone la nostra scuola. Quindi si cerca di ottimizzare il tempo, ottimizzare le risorse, ottimizzare tutto ciò di cui si dispone per fornire un servizio alla collettività, che sia importante, ma che sia un punto di riferimento. È chiaro che noi non stiamo a pubblicizzare ciò che si fa, vogliamo trasmettere intanto ai nostri ragazzi il senso civico, bisogna essere dei bravi cittadini, non lo si può rimandare al domani e la scuola credo che sia un'ottima palestra di vita. Noi docenti abbiamo una grande responsabilità in questo senso, tutto dai progetti a quello che è il piano didattico deve essere finalizzato alla formazione civile e culturale, ovviamente, dei nostri alunni. Certo, come ho detto in premessa, la scuola accompagna il percorso di vita e di formazione di ogni ragazzo, quindi certamente quello che ha detto da mamma conviene assolutamente con il suo pensiero. L'obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo. Anni addietro il tasso di dispersione scolastica nel nostro istituto era elevato. Gli interventi che sono stati fatti hanno cercato appunto di sopperire a determinate carenze. I ragazzi devono essere continuamente motivati allo studio e laddove ci sono situazioni di disagio. Noi abbiamo anche un nucleo che si occupa del sostegno degli alunni BES e di tutti quegli interventi di recupero che possono essere utili per fare in modo che nessuno dei nostri alunni si perde. È chiaro che non è facile, però le linee guida del Ministero più l'impianto didattico che abbiamo dato alla nostra scuola ci incoraggia ad andare avanti in questa direzione. Certo, è importante accompagnare i ragazzi. Professor Nicastro, adesso vorrei entrare un po' nel dettaglio. Cosa succede in queste aule? Io ho capito che forse manca anche il banco del docente, non lo so, cose un poco particolari, no? No, in realtà le classi che sono state inaugurate sono classi chiamate aumentate. Che significa? Significa che nella tecnologia non c'è solo la lavagna, ma abbiamo la possibilità di avere un document camera sempre a disposizione nella cattedra che non è più cattedra, ma è diventata un tavolo tecnico. Si è cercato di preferire banchi singoli in modo tale da poter avere una classe dinamica in cui il setting interno è possibile modificarlo molto rapidamente. I banchi, come ha detto il dirigente scolastico, sono numerati, quindi i ragazzi vengono assegnati a quel determinato banco che si porteranno per tre anni. Ma all'interno della classe abbiamo anche dei servizi che verranno erogati da un server dedicato per la didattica, in cui tutte le LIM, tutti i device presenti all'interno dell'istituto sono tutti quanti collegati a questo server che gestisce e controlla tutti i dispositivi. Non solo, ma all'interno della classe i docenti avranno la possibilità di usufruire anche dei risponditori, cioè significa che nell'ambito della didattica il docente subito dopo aver effettuato l'appropriazione formativa o informativa avrà la possibilità di avere un feedback immediato e quindi ritarare immediatamente e quindi vedere se tutti i ragazzi hanno compreso ciò che il docente vuole trasferire e quindi in quell'istante eventualmente riprendere degli argomenti. Ma sempre con questa strumentazione io avrò la possibilità di svolgere ad esempio delle verifiche, quindi significa che i ragazzi risponderanno con un telecomando e questo telecomando non farà solamente sì e no, ma avrà la possibilità anche di scrivere. Quindi è un piccolo smartphone a tutti gli effetti e il feedback sarà immediato, nel senso che allo stato attuale immediatamente i ragazzi avranno la votazione, sapranno immediatamente cosa è successo e quindi i docenti avranno la possibilità anche lì di intervenire. Intervenire eventualmente se ci sono delle lacune. Come diceva il dirigente scolastico, questo istituto ha subito… Questa cosa è l'aula magna? Sì, questa è l'aula magna, è un'aula che sostanzialmente ha un tavolo tecnico dove ci sono i computer che voi potete vedere a scomparsa perché si farà formazione, si farà cede forum, si cercherà di aprire al territorio in modo tale che questo diventa realmente un luogo di cultura. I ragazzi potranno partecipare con dei corsi, come stanno già facendo, di inglese e spagnolo e tante altre strutture. Dicevo, la classe, l'istituto ha avuto un grosso progetto di efficientamento energetico che ha visto anche parallelamente una rivisitazione di tutto l'impianto tecnologico della scuola. Quindi con gli anni, parallelamente alla formazione, stiamo parlando di due corsi di formazione sul curriculum verticale, l'ultimo anno che si è concluso sulla flipped classroom, quindi sono metodiche particolari che vengono applicate in queste classi, si cerca di dare un impulso e una pilla anche alla scuola stessa. Nelle immagini abbiamo visto anche il QR code che sono collocati sperimentalmente all'esterno della classe, in modo da dare un servizio con i server della scuola e permettere ad esempio anche ai vari genitori, con un semplice passaggio di un telefonino, avere immediatamente le informazioni dei docenti della classe, quando il loro orario di ricevimento ed è anche una didattica di questo tipo può essere applicata. Le classi di tipo 3.0, quelle reali, dovrebbero avere uno spazio molto grande, stiamo parlando di 100-120 metri quadrati perché gli ambienti sono suddivisi in ambienti di lavoro. Le nostre classi che sono più piccoline si vuole dare uno stesso taglio, prossimamente verrà attivato un'altra classe 3.0, una classe laboratorio che è stata ricavata accorpando e nell'ambito della ristrutturazione abbiamo realizzato due grandi aree, che è la classe 3.0 che inaugureremo a breve, dove abbiamo circa 100-120 metri quadrati di classe, dove lì non è previsto né la cattedra del docente né la sede del docente, perché il docente dovrà essere un mediatore con tutti questi dispositivi, che dovranno essere invisibili, perché la figura principale sarà sempre l'azione del docente. E nell'ambito di questo si è voluto dare un impulso anche all'educazione musicale, creando un'aula anecoica, una sala di registrazione, una stanza dove all'interno è foderata con dei pannelli fonoassorbenti in modo tale che i ragazzi quando fanno musica, fanno musica veramente, nel senso si abituano anche l'orecchio ad ascoltare una musica senza reverbero o senza disturbi legati ad un ambiente angusto. Sono sconvolta, quasi tornerei a fare le scuole medie per poter fare questo percorso. Beati i ragazzi che avranno la possibilità, quindi a questo punto colgo anche l'occasione per dire a chi dovesse magari intraprendere il percorso delle medie già dal prossimo anno di pensarci anche ad approfittare di un'offerta così importante come quella di questo istituto. Se è possibile vorrei aggiungere qualcosa sul piano dell'offerta formativa, dal prossimo anno l'offerta formativa sarà triennale, avremo il cosiddetto PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa. Noi stiamo cercando di allargare, di rendere l'offerta formativa quella effettiva, quotidiana e di migliorarla notevolmente. Abbiamo infatti intenzione di richiedere otto figure di docenti così ripartiti. Avremo due docenti per la scuola primaria del posto comune che dovranno dedicarsi al recupero e potenziamento dell'italiano e della matematica che generalmente presentano qualche problema per quanto riguarda le rilevazioni in valsi. Poi abbiamo intenzione proprio per rendere migliore l'offerta di chiedere un insegnante di musica che faccia musica già dalla scuola elementare. È un insegnante di educazione motoria che possa far seguire ai bambini degli esercizi veri legati all'educazione motoria e quindi dare veramente un grande impulso alla scuola primaria. Chiederemo anche un docente di madrelingua inglese perché si parla sempre di inglese, si parla del fatto che i nostri ragazzi non conoscano bene la lingua inglese rispetto anche ad altre realtà che in altre parti del mondo sono poco considerate però poi non si interviene. Noi chiederemo questo come organico potenziato. Per quanto riguarda la scuola secondaria chiederemo dei docenti in più di italiano, di matematica, di inglese, anche qui madrelingua, proprio per dividere le classi, per esempio fare gruppi di livello e utilizzare questo personale per far recuperare e potenziare l'offerta formativa che è quella vera, che è quella quotidiana, non è quella legata ai singoli progetti che si fanno per un tempo limitato. e poi con questo tipo di formazione faremo un passo avanti enorme, con la speranza che vengano autorizzate le nostre richieste. Questo per chiudere un po' quello che era il quadro dell'offerta formativa della nostra scuola. Professoressa Spadaro, ovviamente adesso ci saranno le iscrizioni, sono già iniziate? Le iscrizioni inizieranno il 22 gennaio e si concluderanno il 22 febbraio. Le nuove indicazioni ministeriali danno la possibilità di fare l'iscrizione online, però il nostro personale di segreteria è disponibile a aiutare i genitori anche in sede nella compilazione e nell'inoltro della domanda. Diamo la possibilità ai genitori che sono interessati a conoscere non solo la struttura, ma l'offerta formativa anche di poter visitare i nostri locali. Per questo abbiamo previsto per lunedì 25 l'open day. L'open day ormai è una frase diffusa un po' dappertutto, è un pomeriggio in cui la scuola si apre al territorio e diventa un po' una vetrina, ma non nel senso, è collimitato del termine solo per mostrare quello che si ha, ma si cerca anche di far partecipare gli alunni a piccole attività di laboratorio, a piccole simulazioni. Diamo la possibilità di potersi incontrare con il corpo docente. Questo per quanto riguarda non solo la scuola secondaria, ma anche per la scuola primaria, perché come ha detto il dirigente abbiamo la scuola primaria alla romana e la scuola primaria al plesso ex-onni. Il nostro è un istituto comprensivo e nel corso degli anni abbiamo lavorato perché questa idea di comprensivo fosse efficace, effettivamente realizzabile ed efficiente. Abbiamo lavorato anche dal punto di vista della struttura didattica. Qualche anno fa i nostri docenti si sono formati sulla linea del curriculum verticale, perché crediamo che l'alunno debba essere seguito nella sua diversità che insita nella crescita naturale dei ragazzi a questa età. Però i docenti devono avere degli obiettivi comuni, dei traguardi a conclusione del primo ciclo di istruzione. È chiaro che poi le attività sono specifiche. Basta visitare le aule della scuola dell'infanzia, così colorate, piene di tanti lavoretti, così come pure quelli della scuola primaria. Sono diverse le metodologie, diverse la prassi. Alla scuola media si lavora su altri versanti, che è quello poi della motivazione, del recupero, del potenziamento della tecnologia. E quindi, ripeto, il 25 lunedì diamo la possibilità a chiunque di poter... Dalle 20? Sì, dalle 15 alle 20, ecco, di poter visitare i nostri locali. Via Piersanti-Mattarella. Via Piersanti-Mattarella. Sempre il 30 di gennaio ci sarà il primo concerto nella nostra aula di musica. Questo concerto, i cui protagonisti, i cui attori principali, sono le risorse stesse della scuola. Intanto i nostri bambini della scuola primaria, i ragazzi della scuola secondaria, i nostri docenti di musica e quindi i docenti stessi che si scommetteranno e si esibiranno in pezzi musicali. Ecco, potremmo anche chiamare grandi personalità, però vogliamo dare veramente l'idea, sia nella forma che nella sostanza che la scuola deve diventare un laboratorio, ecco, e il laboratorio deve dare dimostrazione di quello che è il prodotto. In questa maniera, ecco, la scuola diventa quasi una... è una cellula, ecco, della società. I nostri ragazzi, quando usciranno da lì, dalla scuola media, dovranno non solo sapere, ma ecco, ma dovrebbero anche saper fare, oltre che saper essere. Del resto la competenza è proprio questo, essere in grado di applicare le conoscenze in situazioni diverse, nelle situazioni che poi magari le aspetteranno. Anzi, a proposito di scuola superiore, tra i vari progetti ministeriali c'è anche un progetto per la continuità e l'orientamento contro la dispersione scolastica e questo è stato fatto in rete con il liceo scientifico, perché l'alunno va comunque seguito ad anni e noi raccogliamo a fine anno gli esiti dei nostri alunni nel biennio della scuola superiore, perché concedere loro la licenza a conclusione del primo ciclo non significa abbandonarli, anche perché effettivamente ritornano sempre da noi. Però, ecco, ufficialmente chiediamo ai docenti della scuola superiore di restituirci i risultati dei loro livelli in uscita a giugno. E questo significa appunto il quanto sta a cuore il seguire il percorso di crescita di tutti questi ragazzi. Altro evento, ecco, ci tenevo a dirlo, sarà l'inaugurazione dell'impianto, l'inaugurazione dell'impianto di geotermia. Stiamo invitando oltre, ovviamente, inviteremo non solo i vari referenti e l'ufficio tecnico, insomma tutti coloro che a livello comunale hanno avuto un ruolo importante e determinante nella realizzazione del progetto, ma anche altre figure a livello regionale e nazionale, per cui appena la macchina sarà messa a punta. Però qui, ecco, già c'è l'invito pronto. Ecco, sostenibilità, fonti rinnovabili e risparmio energetico per un modello di scuola all'impatto zero, ecco, ed è quello che insomma si tende a fare. Presso l'aula conferenze, Giuseppino Impastato, sabato 20, alle ore 10, una data forse ancora… Sì, sabato 20 febbraio è una data ancora da confermare, perché è vincolata… Certo, alle presenze anche di cui parlava magari. Sì, sì, infatti. Consideri che la nostra scuola è una delle otto scuole a livello nazionale che gode di questo impianto in Sicilia e la seconda dopo Siracusa. Ah, bene. Importante questo appuntamento di questa sera, ci avete dato tante informazioni, tante cose che ci sfuggivano. Per concludere, Professor Di Castro, e poi ci salutiamo con il Preside. Voleva aggiungere qualcosa in particolare? No, invitiamo i ragazzi e i genitori a vivere la scuola con questo piccolo appuntamento che abbiamo messo in pista con l'Open Day, proprio perché hanno la possibilità di vedere, e nello stesso tempo, oltre ai ragazzi stessi, di poter sperimentare e lavorare anche loro. Anche i genitori metteremo sotto a fare delle piccole attività e ci divertiremo con loro. In modo tale da poter vedere la scuola e toccare con mano, perché il dirigente ci ritiene tantissimo affinché quest'istituto si apra al territorio. Ed è bellissimo la scuola aperta dalle otto del mattino fino magari alle sette di sera. Sarebbe veramente una bella cosa. Bene, quindi gli ha dato la parola? Io vi ringrazio tantissimo per questo spazio. L'auspicio è di veramente tenere la scuola aperta il pomeriggio anche per esempio per i genitori. Penseremo anche a progetti che li coinvolgano, perché in questa fase dello sviluppo dei bambini e poi dei ragazzi, sapevo benissimo che la nostra attività arriva all'obiettivo se è sinergica con quella della famiglia. Quindi cercheremo in tutti i modi anche di coinvolgere le famiglie in questo nostro lavoro, che è veramente un lavoro importante, un lavoro utile per la nostra società. Eh sì, avete pienamente ragione, sono pienamente d'accordo. Quindi al 22 febbraio e 22 gennaio riniziano le iscrizioni. Pensateci, credo che insomma il quadro, le prospettive e gli obiettivi siano davvero invitanti. Se fossi dodicenne, vorrei anche io, forse anche un po' prima, dieci anni più o meno. Insomma, mi avete allettato. Quindi insomma, complimenti per il lavoro che avete fatto, complimenti al neodirigente per il lavoro che si prospetta avanti, per tutti i ragazzi che frequentano le vostre aule. Grazie Giuseppe Cebba, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Piero Gobetti, alla professoressa vicepreside Grazia Spadaro e al professor Salvatore Nicastro, in questo caso referente alle nuove tecnologie, ma ho visto che insomma, un po' su tutto per mente, voglio dire, in questo caso possiamo dare un applauso in più, no? Presi. Oltre ovviamente a tutti i docenti, al direttore amministrativo, ai nostri collaboratori scolastici e ciascuno, ecco, nelle loro competenze, nei loro ruoli, dall'infanzia alla secondaria, danno il contributo che è possibile dare e necessario. Sì, certamente. Grazie a tutti. Grazie per essere stati qui, ovviamente quando volete siamo a disposizione e fateci sapere i prossimi appuntamenti. Prego. Grazie a voi per averci seguito, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria.